Ah, eh sì, ho cominciato a caricarlo ieri, ci vuole tempo, sì. No, non dicevo lei, dicevo l'altro. Sì, sì. Ehi, tu. Sì, sì, proprio tu. Sei stressato, vero? Non riesci a lavorare come vorresti? Semplice. Passa a Cloud Italia. Cloud Italia ti permette di avere i tuoi dati digitalizzati a portata di clic. Sempre. Sì, sì. Velocemente. E ovunque. Già fatto. Cloud Italia. Il cloud a chilometro zero. www.clouditalia.com Cloud Italia. Grazie a tutti.